Musica Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale Io come sempre sono Angel3Dark3 E qui siamo sull'angolo dell'unboxing Oddio, muoio Adesso vi faccio vedere che cosa ho acquistato per la Xbox One Questi tappucci arancioni che è il mio colore preferito Sono strafighi Mi devono arrivare anche degli skin che si applicano qui al joystick Dall'America e due della Cina, dal Giappone Non lo so, spero che arrivino Quest'altro, i tappucci verdi Molto spacchiosi E ci stanno, verdi sull'Xbox Anche l'arancione Di Splatoon Un altro gioco per Wii U Davvero molto bello Coloratissimo Arancione, io amo l'arancione Spero di trovare anche L'edizione pacchettizzata di Bloodborne Ancora non l'ho acquistata Il DLC a 19,90 Sto vedendo se si trova pacchettizzato Anche in edizione inglese non mi interessa Io non compro mai i DLC A meno che non siano pacchettizzati Amo le cose pacchettizzate Ecco qui Questo è l'Amiibo Il calamarazzo verde E adesso lo faccio vedere Mi sono scordato una cosa molto importante Da farvi vedere Nello scorso videoacquisti Ho acquistato altri due Amiibo Tempo qua Sono aperti Ho richiuso perfettamente la confezione Non si vede che sono aperti Manca Amiibo Quello di Charizard E quello di Mewtwo Che sono tra gli Amiibo più belli Secondo me quelli fatti meglio Adesso ve li faccio vedere nel dettaglio Partiamo con Charizard Ecco qui Ammirate i dettagli Per quanto Posso vedere dalla mia fotocamera Metti a fuoco E qui Charizard Davvero fatti bene Bellissimo Una delle statuette più belle Nonché il mio personaggio preferito Sui Pokémon Che è stato il mio primo Pokémon Pokémon rosso E guarda caso Ho preso proprio Charmander E poi l'ho fatto evolure Evol... Eh... Oddio Evolvere in Charizard Prima in Charmeleon Attenzione Eccolo qui Bello Bello Davvero E adesso Mewtwo Eh guardate che sono Dettagliate Fatte benissimo E' una figata Una vera figata Devo ancora provarle Non so bene come Si appoggia lì E fanno queste cose loro Spero di sì E giù Andiamo a combattere Tanto Non vi ammazzate Però E adesso Andiamo a Spacchettare Splatoon Ecco qui Dentro possiamo trovare L'amiibo E il gioco Andiamo subito Dal gioco Ecco qui Gioco E l'amiibo Questo è l'amiibo Davvero bello Bello anche il colore Molto luminoso Però adesso Non lo apro Tanto lo vedete Abbastanza bene Già così Lo aprirò più là Eccolo qui E vi faccio vedere Splatoon L'edizione con l'amiibo Bello Facchettizzato bene Questa viene 50 euro Ragazzi Alla fine La standard è 40 Per 10 euro Contando che un amiibo È 14 euro È qualcosa 14 euro No Intanto Conviene questa In più Ho sentito dire Che è dato i potenziamenti Questa edizione qui E l'amiibo Per qualcosa Questo qui è il gioco Con i calamaretti Verdi Come sempre Emanuele Elettronico Beh Voglio informativo Che se giochi a sto gioco Ti implode la casa Esplode e muori Altro non c'è Ecco qui E questa era L'edizione Di Splatoon Come sempre Vi ricordo Se il video Vi è piaciuto Un pollice in su Iscrivetevi al canale Commentate E al prossimo video Ciao Oddio Quante cose Che sto comprando Della nintendo Sto diventando Un nintendaro Aiuto Ciao 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 Ciao